Durante il proseguimento del viaggio, il Nautilus e la sua forza motrice eccitarono la mia più profonda curiosità. Dietro invito del mio anfitrione visitai la nave. Nemo sembrava deciso a mostrarmi tutto. Scendemmo fino nel cuore della nave, la camera di compressione. No, 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 no. Era chiaro che il capitano Nemo aveva scoperto quello che il genere umano aveva sempre cercato, la vera forza dinamica dell'universo. Questo segreto bastava da solo a dargli la padronanza del mare.